buonasera amici di fano tv ben trovati a questo appuntamento importante perché si presenta un evento tra i più significativi dell'estate culturale turistica fanese parliamo del festival jazz fano by the sea un festival che ormai ha compiuto un lungo percorso è nato tanti anni fa quest'anno si svolge la 31esima edizione e sarà un festival come sempre tra i più importanti che si svolgono a livello europeo credo che a livello italiano siamo tra i dieci festival abbiamo qui con noi adriano pedini il direttore artistico di questa grande manifestazione è vero adriano che siamo tra i primi dieci festival a livello nazionale o forse anche a un livello superiore beh ci davano fra i primi cinque ma i primi cinque quindi è sempre molto soggettiva la cosa questo è un bel inizio per fare vedere per significare appunto l'importanza di questo evento nove giorni di festival 45 concerti 35 dei quali pensate ad ingresso gratuito 200 musicisti provenienti da tutto il mondo dal 22 al 30 luglio prossimo questo è un po in sintesi i dati di questa grande manifestazione allora adriano quali sono le iniziative più importanti che si svolgono quest'anno beh diciamo che intanto il festival come tu hai detto un festival musicale quindi è un festival che porta a fano la musica d'arte e quando dico la musica d'arte dico quella musica che rappresenta l'essenza stessa del costruire quello che è il sentire di un musicista ci tengo a dire questo perché la musica jazz essendo una musica che prende spunto dalle esigenze personali è una musica che comunque è irripetibile è un momento in cui il musicista improvvisa e quindi un momento unico questo fa sì che è una musica tutta da scoprire tutta da ascoltare è una musica che ha bisogno di avere una curiosità per entrare dentro quei meccanismi tanto è vero che quest'anno abbiamo abbiamo intitolato il festival prendendo a prestito da una nota trasmissione il piacere della scoperta cioè scoprire queste piccole opere d'arte piccole grandi opere d'arte che venivano fatte dai musicisti in un momento irripetibile questa è la cifra del nostro festival che abbiamo sempre perseguito e vorremmo perseguire dopodiché poi il festival esplode in tante altre cose è un festival che è articolato in cinque sezioni la sezione main stage la sezione del che dei musicisti di più alto spessore a livello mondiale che verrà che saranno alla corte verranno presentati alla rocca manatestiana e poi abbiamo la sezione young stage la sezione cosmic journey la sezione exodus stage e live in poi magari ne parliamo questo per dire qual è la struttura che ormai diciamo format come viene chiamato del festival e poi c'è la grande quello che è la cifra quello che è il segno identitario del nostro festival che è il jazz village ecco questo è come dire il grande contenitore sono tutti quei contenitori che fanno del festival un momento di festa io ho sempre detto il nostro è non vuole rappresentare qualcosa di staccato dalla città o qualcosa di auto referenziale ma vuole entrare dentro la città e vuole essere anche un momento in cui la gente possa possa scoprire delle cose altre che magari durante l'anno non non si possono scoprire diciamo un mosaico con tante tessere che poi danno in un insieme veramente interessante il merito del festival quello di aver creato anche una cultura perché quando è nato a fanno non è che ci fosse una grande propensione per il jazz e per questo genere di musica che non è poi così popolare come lo è in altri paesi magari d'oltre oceano invece in trent'anni questo questa questa iniziativa di nicchia è diventata un'iniziativa condivisa da molte molte persone tant'è che oltre a tante persone che vengono da fuori quindi diciamo subito che il festival è anche un evento importante dal punto di vista turistico ci sono tante persone di fano della nostra provincia della nostra regione che approfittano a per venire a questi concerti quindi questo è un merito veramente del festival parliamo quindi della iniziativa più importante il main stage che si svolge alla rocca malatestiana qui abbiamo veramente i grossi calibri della manifestazione sì anche questo è sarà tutto da scoprire perché è vero che sono dei grossi calibri ma è anche vero che sono non sono molto conosciuti a livello diciamo popolare non c'è questa questa conoscenza è per questo che i musicisti del main stage rappresentano sicuramente una quello che è il kaleidoscopico mondo del jazz a livello mondiale io passo tutto l'inverno ad ascoltare e quindi a cercare di trovare quelle che possono essere le proposte più interessanti e quindi quest'anno abbiamo preparato una lista di artisti molto variegata tra noi di loro che però io credo rappresentino molto bene quello che è il momento attuale quello che sta vivendo in momento attuale il jazz a livello mondiale quindi partiremo con il 22 di luglio con un grande musicista questa volta italiano che è gianluca petrella con i suoi cosmic renaissance e gianluca petrella è un trombonista che è diventato uno dei principali esponenti del jazz italiano ma non solo italiano tra l'altro è stato premiato come miglior trombonista a livello mondiale dalla rivista downbeat quindi è un personaggio ormai che è entrato nel nell'ambito del jazz mondiale e proprio con lui vogliamo iniziare perché gianluca petrella rappresenta tra l'altro anche quel quella nostra propensione a scoprire i giovani talenti gianluca petrella all'epoca era un giovane talento faceva parte dei nostri programmi del jazz club di tutte quelle programmazioni che servivano da che se che erano come dire da facevano da da sponda per 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 il festival e quindi oggi è diventato un personaggio importante un personaggio di primo ordine quindi iniziamo con lui il vende il giorno successivo il 23 invece avremo una veramente una una scoperta che questa sassofonista di new york la kesha benjamin la kesha benjamin non lo dico io ma lo dicono i i critici più più accreditati è una delle sassofoniste più importanti del quello che viene definito il nuovo corso del della musica new yorkese tra l'altro è anche impegnata dal punto di vista sociale perché ha una dei riferimenti anche con con quello che il live black metal con tutte quelle che sono le istanze del dei neri americani il giorno successivo poi avremo invece un gruppo che rappresenta il quello che è il coro il nuovo corso del jazz europeo che sono i rindem i rindem sono un trio composto da dalla ritmica famosa ritmica degli est che il trio famoso con il pianista esbios benson purtroppo deceduto e è subentrato al suo posto uno dei grandi musicisti norvegesi che beg weseltof che rappresenta insomma una delle una delle colonne portanti del del jazz norvegese senti hai parlato di nuovo corso del jazz europeo un tempo il jazz aveva subito delle trasformazioni grazie anche alla contaminazione con le musiche di tipo mediterraneo ebbene il nuovo corso si avvicina ancora a questo modo di esprimere la musica oppure ha individuato un'altra forma di espressione no diciamo che oggi il nuovo corso lo si individua in tutte quelle che sono le le forme musicali i linguaggi musicali che si che in questo villaggio globale si stanno intersecando lo stesso ritornando lo stesso cosmic renaissance di gianluca petrella pure lui fa uso di linguaggi che vengono dall'africa dei linguaggi che vengono dalla musica contemporanea così come i rimden oggi il jazz e rappresenta un po per fare un un esempio come una spugna in cui vengono assorbiti tutte delle dei linguaggi diversi ma non solo di linguaggi anche delle semplici delle semplici frasi o dei momenti particolari poi viene rilasciato attraverso la sensibilità attraverso il modo di elaborare il linguaggio jazzistico viene rilasciato una nuova musica che rilasciato il concerto sarà una scoperta sarà un'evoluzione assolutamente sì perché poi tutto questo viene in un certo senso viene avvalorato dalla da quello che è una delle componenti fondamentali che l'improvvisazione quindi nel momento in cui si improvvisa il musicista questa cosa unica più unica che è rara è al tempo stesso non solo esecutore ma anche compositore questo lo fa come dicevo prima una cosa unica perché oggi il musicista interpreta in un certo modo domani forse potrebbe interpretarlo in un'altra maniera quindi questa è come dicevo prima la scoperta cioè scoprire queste piccole opere d'arte che sono che si manifestano in quel momento e che sono uniche comunque l'improvvisazione è certamente una delle caratteristiche tipiche tipiche del jazz e poi lì si vede anche la bravura delle musicista stessa rapidamente riesci anche a elencare gli altri gli altri rapidamente perché abbiamo il 25 abbiamo teo cocker un trombettista di lui qualcuno ha detto che è una delle star nascenti giovane riferimenti a maes davis poi il 26 invece abbiamo una star una grande star credo che sia un mito per per tutti quelli che seguono la musica jazz che è stanley clark il 27 invece avremo donny mckeslin donny mckeslin è un sassofonista statunitense forse più noto come il sassofonista che ha partecipato all'ultimo disco di david boy in black star ma è sicuramente un personaggio molto importante molto influente il 28 invece avremo una nostra coperta questa è una una delle mie scoperte invernali questo pianista che del 1997 quindi giovanissimo scozzese questo ferguson mccready verrà con il suo trio e quindi ci sarà una nuova interpretazione di quello che è ormai il trio la formula del trio con queste con queste musiche scozzesi con queste atmosfere un po tipiche della dell'inghilterra il il 29 l'ultimo giorno della del main stage alla rocca invece avremo questo sian cuti beh sian cuti è il figlio di felacuti felacuti è uno dei personaggi più importanti del non solo della musica africana tra l'altro l'inventore dell'alfro beat ma è anche il rappresentante del di tutto il movimento di di riscossa del africano quindi un personaggio importantissimo del black president qualcuno l'aveva l'aveva pure paragonato malcolm x e si un cuti porta avanti questo queste istanze sia dal punto vista musicale sia dal punto di vista anche delle dell'impegno dell'impegno sociale la sua viene chiamata la sua band egipto ottanta viene rimanato la una delle ritmiche più infernali del africano e tanto per sarà un concerto vulcanico sarà un concerto molto 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 senti uno dei meriti invece del fano jazz by desi e quello della scoperta di nuovi talenti quindi anche qui c'è un lavoro che viene fatto prima di ascolto di selezione si portando devo dire che insomma è sempre stato ma fin dall'inizio ma anche quando organizzavamo il jazz club l'importanza di l'importanza che riveste che rivestono i giovani nella nella transizione del jazz contemporaneo quindi è doveroso fare in modo che un festival abbia un'attenzione particolare verso verso questi giovani è una selezione come hai detto giustamente perché tanti sono i giovani però cerchiamo di di individuare quelli che possono in qualche misura avere dei progetti solidi e dei progetti che poi si possono essere portati avanti nel futuro quindi abbiamo fatto una selezione ce ne sono poi altri che verranno poi avremo modo di di presentarli però devo dire che c'è una presenza di giovani musicisti molto interessanti e ci sono anche all'interno di di questa compagine di giovani anche molte molte donne per esempio ci sono due bassiste che quando uno parla di jazz è difficile pensare a una strumentista donna non è ancora nell'immaginario c'è questa mentre invece si sta facendo strada e questo noi lo sottolineiamo presentando appunto delle delle band che hanno come come dire come leader delle donne penso a Caterina Palazzi la contrabassista ma Federica Lorusso pianista ugualmente che hanno delle loro band quindi sono è tutto un movimento di giovani che si sta facendo strada e noi cerchiamo di dare un'opportunità se si pensa che le donne dirigono le orchestre che sono batteriste insomma sono da perduto quindi veramente siamo in linea senti invece uno dei temi importanti che il Fano Jazz propone al pubblico è quello della migrazione quindi non è insensibile non è insensibile agli aspetti più attuali della nostra società civile in che senso la migrazione entra nel festival? Beh intanto bisogna siamo partiti da un presupposto che il festival un festival come il nostro il festival culturale comunque in ogni caso che rappresenta la contemporaneità non possa prescindere dal rapportarsi con quelle che sono le trasformazioni sociali questo è il primo presupposto il secondo è che la musica jazz per sua natura ma anche perché è stato dichiarato dall'UNESCO come come uno dei linguaggi delle musiche di assoluto valore mondiale rappresenta anche non solo uno degli stilemi musicali ma rappresenta anche quelle che sono i valori della società quindi la tolleranza, l'inclusione, l'importanza del dialogo, cioè tutti questi valori positivi che in qualche misura sono dentro quello che è il linguaggio musicale del jazzistico basta ricordare che insomma la musica jazz nasce proprio dalla sofferenza nasce da una se vogliamo nasce da una migrazione forzata quindi ci sono tutti gli elementi ho pensato che ci fossero tutti gli elementi perché si possa in questo momento storico che noi viviamo si possa dedicare quindi un momento di riflessione seppure così per quello che possiamo fare però ricordare che c'è un dramma in corso e quindi dedicare una sezione particolare perché gli echi della migrazione perché in solo anche qui c'è un riferimento preciso almeno per quello che ho pensato il fatto che il solo del musicista rappresenta il solo del migrante che rimane solo in mezzo al mare e quindi è solo nei confronti della tragedia di tutto quello che si sta consumando quindi ho chiesto ai musicisti in solo di poter rappresentare anche con la loro musica qualcosa che fosse attinente a questo travaglio, a questa tragedia e per ricordare insomma che stiamo vivendo un momento molto particolare Abbiamo lasciato il festival alla Rocca Malatestiana ma in realtà poi ci sono anche altre ribalte, altri palcoscenici in cui poi il festival si articola, quali sono? Beh c'è tutto Live in the City, Live in the City è quella sezione che è nata nel 2020 in epoca pandemica quando ci dovevamo inventare qualcosa per non perdere il festival e quindi è nato questo Live in the City sono dei concerti sparsi in tutta la città nel centro storico e anche nel lungomare e in contemporanea quindi nella giornata del 22 quindi la giornata in cui partirà il festival ci saranno tutti questi questi concerti tra l'altro con tutti i musicisti della nostra zona quindi i giovani musicisti della nostra zona che animeranno la città e in più ci sarà sempre per Live in the City questa P-Funking, questa marching band che appunto animerà le strade del centro storico con questa musica trascinante e sempre per Live in the City e sempre per il rapporto che c'è fra il festival e la città ci saranno anche altre iniziative come i concerti del balcone del Pincio e questa sbiciclettata che noi abbiamo chiamato molto simpaticamente che fanno jazz bike the sea per cui quattro musicisti su delle cargo bike percorreranno le vie del centro storico ma anche del lungomare seguiti da una schiera di altrettanti ciclisti suonando per le vie e questo ricorda un po' quello che è un'altra delle nostre attività che è quella della sostenibilità, mobilità sostenibile questo percorso arriverà poi al Jazz Village, concluderà il percorso al Jazz Village Mobilità sostenibile, il festival ha avuto sempre una vocazione green, una vocazione ambientalista Sì, diciamo che questo è sempre stato un po' nelle nostre corde, però è dal 2017 da quando abbiamo avuto la possibilità di allestire il festival nella Rocca e di fronte alla Rocca è nata questa nostra volontà di rappresentare in maniera fattiva, di fare in modo che ci fossero delle azioni tangibili di quello che è il nostro impegno sulla sostenibilità oggi si parla molto di sostenibilità, tutti parlano di sostenibilità ricordo che nel 2017 questo non era ancora così importante o quantomeno non era così frequentato ma noi avevamo già intravisto la necessità che gli eventi musicali potessero trasformarsi da eventi standard a eventi ecosostenibili, come? Attraverso l'adozione di quelli che sono i CAM, vengono detti CAM che sono criteri ambientali minimi. Grazie a una collaborazione con la Fondazione Ecosistemi che è una delle principali organizzazioni sui temi della sostenibilità e della transizione ecologica abbiamo messo in campo tutte queste azioni per cui siamo partiti dal classico no plastic quello che non si usa plastica come nei festival di transizione ma poi ci sono tantissime azioni, ne ricordo alcune come per esempio anche tutti gli allestimenti non vedrai mai allestimenti di plastica ma sono tutti allestimenti in legno con un criterio che si chiama for disassembly cioè con tutti questi elementi che possono essere recuperati di recupero poi c'è l'utilizzo dell'acqua free, grazie al contributo dell'ASET c'è un distributore di acqua avevate anche dei gadget mi sembra sì sono dei gadget, sempre dei gadget sempre ecosostenibili ma poi c'è la raccolta differenziata, c'è l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici per illuminare parte del Jazz Village ci sono tutte le azioni che dovrebbero rendere poi abbiamo un'ecosquadra di ragazzi, di volontari che sono attenti a che le azioni anche da parte del pubblico siano consone con quello che è insomma questo messaggio che vogliamo dare ecco nel quadro di questa atmosfera che ha un grande rispetto per la natura credo che anche quest'anno non manchi il grande concerto all'alba nel sorgere del sole insomma uno degli eventi più suggestivi che il festival può produrre sì il concerto dell'alba è nato quasi per caso è nato perché c'era stato un momento in cui dovevamo recuperare un concerto quindi ho detto vabbè facciamolo all'alba e vediamo un po' cosa succede all'alba a che ora diciamo? alle 5 alle 5 il sole sorre alle 5, 30, 35, 40 ma noi partiamo prima e quindi accompagniamo questo momento di sorgere del sole sempre e anche qui se vuoi adesso diciamo anzi dove lo fate? in Sassonia? viene fatto in uno dei luoghi che comunque è simbolo del festival perché il festival tu lo sai ricorderai bene ma nel 91-92 nacque proprio l'anfiteatro Rastat con i concerti gospel e lì siamo tornati proprio sulla riva del mare con questo pianista Alessandro Sgobbio un bravissimo giovane pianista che accompagnerà appunto il sorge del sole speriamo che non ci siano le nubi a togliere la visuale del sole che sorge però anche questo è un momento importante perché rappresenta un po' sempre sempre vocativo di qualcosa che nasce, di qualcosa che vuole riemergere Adriano prima di chiudere ho da farti ancora tre domande una riguarda la collaborazione con la Proloco di Sant'Andrea di Suasa per quanto riguarda la gestione del food anche questo va nel segno della sostenibilità abbiamo nel corso di questi anni abbiamo sempre cercato di dare anche nella parte di come fruire il jazz village di creare un'area che abbiamo chiamato area chill cioè area rilassante dove si possa bere e dove si possa mangiare mangiare che cosa? Anche qui nel rispetto della sostenibilità abbiamo cercato di individuare quello che potesse essere secondo noi un'associazione che potesse prendere in mano la distribuzione del food abbiamo individuato la Proloco di Suasa, la Pro Suasa devo dire che sono dei fantastici volontari che utilizzano tutte le materie prime a chilometro zero ma proprio quando dico a chilometro zero sono proprio dei loro orti o comunque in prossimità delle loro quindi c'è un rispetto della materia prima molto importante e anche nella preparazione viene fatta tutta da loro quindi c'è anche una preparazione artigianale molto accurata a cui ci tengono perché loro non lo fanno come un business ma lo fanno come volontariato quindi ci tengono molto a questa offerta e quindi ci siamo incontrati e abbiamo deciso quest'anno di dare a loro la possibilità di offrire dei prodotti del nostro territorio quindi sono rappresentativi del nostro territorio durante il festival e sarà una bella sfida saranno molto motivati La seconda domanda riguarda invece l'acquisto dei biglietti abbiamo visto che molti concerti sono gratuiti però ovviamente alcuni sono a pagamento allora per avere un posto, per prenotarsi cosa bisogna fare? Sì, ci sono due modalità ormai la modalità quella che viene quella che è più frequentata è quella dell'online quindi abbiamo il nostro sito che è vivaticket.it basta entrare dentro il sito e prenotarsi è molto semplice è molto comodo perché uno può prenotare proprio il posto si può scegliere il posto questa è la modalità online ma poi c'è la modalità quella classica basta recarsi presso il botteghino del Teatro della Fortuna per tutti i fanesi in piazza 20 settembre negli orari di apertura E i costi variano a seconda dei concerti? Sì, variano a seconda dei concerti comunque sono anni che rimaniamo sempre sui prezzi non abbiamo aumentato non sono sempre i soliti prezzi che sono popolari anche perché non vogliamo certo speculare su questo però consentimi di dire che noi crediamo che la cultura in ogni caso debba essere rispettata e quindi c'è bisogno anche di una partecipazione del pubblico anche in termini di pagamento di un biglietto non si può sempre essere tutto gratuito altrimenti si dà l'impressione che è tutto così gratuito e quindi si svilisce anche secondo me il prodotto mentre invece dobbiamo pensare che dietro c'è una macchina organizzativa che è costa è molto costosa e quindi credo sia doveroso anche mettere un biglietto per sostenere più che altro tutte le spese per approntare un festival di questo tipo e poi ti chiederei notizie sull'evento conclusivo che si svolge come sempre nella meravigliosa cornice del furlo un concerto questo è gratuito mi sembra? sì, questo è gratuito perché rappresenta sia la chiusura del festival rappresenta al tempo stesso anche la partenza dell'altro festival che è arrivata alla terza edizione che si chiama Terre Sonore quest'anno siamo arrivati all'adesione di ben 19 comuni dell'entroterra prendiamo un'area molto vasta che va dal Macerata Feltria tanto per fare ad esempio a Sanorezzi in campo quindi l'estremità passando per Apecchio per Acqualagna eccetera eccetera quindi questo concerto è molto significativo sarà un concerto di una grandissima artista anche lei africana Manu Gallo una bassista e cantante straordinaria e quindi ci darà il via a questa maratona che durerà fino al 27 di agosto con Terre Sonore quindi questa è molto importante tra l'altro la Golina del Furlo è uno dei luoghi più belli che si possa essere quindi c'è sempre una grandissima affluenza l'anno scorso ricordo che un pubblico è venuto da tutta Italia non solo per vedere il concerto ma anche per vivere una giornata veramente straordinaria e unica e quindi per fare una bella esperienza oggi che si vogliono fare le esperienze turistiche questa è una delle giornate in cui questa esperienza si può fare Adriano grazie grazie per questa tua presentazione ricordiamo che il Fano Jazz by the Sea si svolge dal 22 al 30 luglio è una delle manifestazioni più importanti dell'estate fanese ne abbiamo due importanti di festival il festival passaggi per quanto riguarda la saggistica la letteratura e abbiamo il festival del jazz per quanto riguarda la musica quindi due aspetti tutti e due ugualmente importanti per la cultura, il divertimento e il turismo soprattutto perché poi c'è anche un risveglio economico di tutta la città grazie Adriano e quindi buon festival grazie, incrociamo le dita speriamo nel tempo perché è un'incognita grazie a voi per l'ascolto grazie 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 grazie